un batterio 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 che pensi che ti segui? prendilo o no? no no un aspar un aglio un batterio un batterio se ne is aprecio in giugno fa proprio unvant novico così vedi un paoli di plastica vorrei passare vorrei portare quello aㅎ allora vi prendiate si viene il cartello fra both hai qualcosa? io non nasce Grazie.